Sei qui per dire, mi devi dire, il meglio deve ancora venire Sei qui per dire, mi devi dire, mi devi dire Non poteva che essere così, campionati bellissimi quest'anno, a parte la prima categoria girone A che è stata già stravinta dal Pravis Domini, tutti gli altri sono in bilico, soprattutto l'eccellenza, squadra copertina, il Fontana Fredda, l'aggancio al Crass dopo il 3-3 proprio del Crass contro l'Azzanese, l'1-0 del Fontana Fredda contro il Charlize Muzzana abbiamo scritto sì, lo voglio con De Pieri, allenatore del Fontana Fredda, perché lui ha detto che questa Serie D effettivamente la vuole, ci credi Nicola, prima cosa? Io cerco sempre di essere sincero e poche domeniche fa quando si discuteva della fuga del Crass intimamente davo per scontato che i Carsolini portassero fuori il campionato anche perché a un certo punto dopo le due sconfitte del Fontana Fredda, insomma quei due match point che si era giocato in casa negativamente pensavo che la botta a livello psicologico fosse troppo forte Invece complice qualche problema di Rosa per il Crass e una rinata vitalità del Fontana Fredda il campionato di eccellenza è di nuovo aperto A questo punto di testa penso stia meglio il Fontana Fredda perché si soffre più facendo la lepre che facendo l'inseguitore in questo senso e quindi da quel punto di vista potrebbero avere qualcosa di più Certo è che a livello di tasso tecnico nonostante tutto penso abbia ancora qualcosa di più il Crass per la volata finale Però sono tre partite, tasso tecnico contro inerzia, cosa vince? Spesso l'inerzia però in questi casi? Sì, con così poche partite sì, se ci fossero cinque partite sarebbe già diverso però tre sono poche perché si modifichi quel tipo di situazione lì effettivamente Ecco però a questo punto la domanda è inevitabile, se lo perde l'ha perso il Crass? Sì per forza l'ha perso il Crass ma credo sia proprio questa la questione, il fatto che in questo momento tutta la pressione sia sul Crass Perché se il Fontana Fredda dovesse riuscire nell'impresa, chiamiamola così, non è neanche tale perché non è che è un recupero di un quarto di finale di Coppa All'annata è risotto 3-0, comunque il Fontana Fredda in quella condizione ci è arrivato, i punti li ha fatti, nessuno gli ha regalati In questo senso è relativo parlare di impresa, certo è che per come era messa la situazione fino a poche domeniche fa tutto può assumere questa connotazione Ecco il Crass può avere problemi di rosa però, da quanto mi dicevi un secondo fa, aveva qualche problema di rosa Ma non era questa rosa imbattibile, ormai pronta per la Serie D, quindi evidentemente un campionato lungo fa male a tutti Sì, è lungo il giusto però il campionato di eccellenza, nel senso che a me infastidiscono un po' i campionati con 20 squadre Tipo la nostra Serie A o altre massime divisioni straniere, il numero di squadre che partecipano all'eccellenza è il numero giusto Perché ci possono essere sorprese del genere, probabilmente se avessimo avuto un'eccellenza a 20 L'inerzia o i passi falsi sarebbero stati meno decisivi Invece in questo caso proprio la composizione e la struttura del campionato fa in modo che sia giocabile e ci possono essere sorprese fino all'ultimo Allora abbiamo parlato, abbiamo nominato la parola impresa accostandola al Fontana Fredda, ci sta, a diritto di cittadinanza Se invece nominiamo quella fallimento e l'abbiniamo al CRAS, ovviamente scongiuri sul Carso Nel caso in cui nemmeno poi i playoff vada una buon fine, post season e quant'altro, sbagliamo di tanto? No, non di tantissimo perché sappiamo bene che al di là delle dichiarazioni di facciata Che poi non sono neanche mai state così tanto affette da cautele particolari Che a Monrupino ci tengono, vogliono la serie di, hanno fatto le cose bene e in maniera organica per raggiungere questo obiettivo Quindi è chiaro che non è detto che nonostante tu ti possa impegnare al massimo livello O tu voglia a tutti i costi centrare un obiettivo, si deve parlare di fallimento un po' esagerato Però non è sicuramente una stagione che è andata come ci si aspettava Poi alla fine sai vince uno, quindi 4-5 falliscono ogni anno Però per il livello di partecipazione, di impegno in tutti i sensi e di giocatori tesserati Non sarebbe una grande stagione se il Cras non fosse promosso in D E allora proiettiamoci direttamente a domenica Fontana Fredda-Muggia, San Luigi-Cras Insomma passa per la provincia di Trieste questo campionato abbiamo capito Però c'è la più dura il Cras domenica perché il San Luigi non è da sottovalutare, c'è il sintetico poi Molto, molto più dura, molto più dura Poi un San Luigi che nella seconda parte di stagione dopo un sacco di difficoltà Ha mostrato un ritrovato spirito e una ritrovata vitalità È un campo, un quartiere dove la gente ci tiene particolarmente Insomma e quindi non sarà facile Dopo la sfida cittadini-altipiano è sempre sentita a Trieste per forza Fontana Fredda ha un impegno più semplice Nonostante il Muggia sia tutt'altro che allo stato terminale Perché abbiamo visto domenica scorsa Insomma ha complicato parecchio la situazione del Tolmezzo E poi non è spacciato quindi è virtualmente ancora in lotta È virtualmente ancora in lotta Sì 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 Anche qui contrariamente a quello che si pensava un po' di tempo fa Invece il Muggia è rinato a nuova vita Dopo Pasqua invece perché ci sarà la sosta non per la Serie D Ma per gli altri campionati sì ci sarà il Torneo delle Regioni Ricordiamolo sempre FVG Sport Channel garantirà un evento spettacolare Poi dopo Pasqua Chions Fontana Fredda e Kras Rivignano Chions Fontana Fredda Ovviamente il Chions è quasi a posto con la sua classifica Il Rivignano meno Il Rivignano molto meno sì E qui un altro turno quindi per De Pieri Sulla carta sempre L'ultima giornata Fontana Fredda, San Luigi e Tolmezzo Kras E questo dà anche il treno poi al nostro prossimo argomento C'è la più difficile Kras in queste tre giornate? Sì sì il calendario è più impegnativo per il Kras Però sai sono discorsi relativi Insomma abbiamo visto difficilmente che le squadre regalano punti Ti ripeto per la struttura del campionato è abbastanza improbabile che succeda Poi forse nelle categorie inferiori ci sono squadre che sono con i remi in barca da più tempo Allora ti puoi aspettare non dico diciamo il disimpegno Però un atteggiamento un po' più Quelle due marce in meno L'eccellenza è talmente non dico professionalizzata Però ti alleni talmente tanto e le cose sono fatte talmente con tanto impegno Rispetto agli altri campionati sia a livello di struttura delle squadre Che di allenamenti settimanali che di partecipazione popolare Anche che è difficile che ci sia un tipo di rallentamento del genere Insomma per tutte le squadre dico Se parliamo di seconda è un po' più semplice Ma anche per la diversità di approccio al campionato Allora facciamolo questo salto È un salto all'indietro in classifica È un salto però verso la notizia vera e propria Quindi abbiamo detto la squadra copertina Questa è la squadra di cronaca invece della settimana Il Tolmezzo via Maisano dentro Enzo Zearo Noi dovevamo averlo al telefono Purtroppo per alcuni problemi personali Non ha potuto rispondere Ci ha comunque detto che lui ha trovato una squadra viva Che ha trovato una squadra che perlomeno con la testa c'è Pronta per il rush finale per provare la salvezza diretta Affondiamo un po' il coltello sulla crisi del Tolmezzo Nella crisi del Tolmezzo Via Maisano era inevitabile a questo punto? Dentro Zearo era inevitabile anche questo? Ma sai per quello che riguarda Maisano Un po' si ripercorre quello che è successo anche in altre situazioni L'esempio più lampante di quest'anno Insomma è quello del Tamai Di un mister che per tanti anni fa bene Sulla stessa panchina a un certo punto Quando arrivi oltre la quinta stagione Come nel caso di Maisano Le cose iniziano O anche nel caso di Quello che è stato il caso di Birti A Tamai Insomma le cose iniziano a farsi difficili Quindi È anche una cartina al torno a sole Di come il calcio a qualsiasi livello In Italia Si è vissuto Oltre un certo periodo di tempo Isole felici o meno I rapporti si logorano per mancanza di stimoli Non perché venga a mancare fiducia nei confronti di una persona Sono convinto che quest'anno Alto il mezzo Insomma Non l'avrebbero confermato Altrimenti Insomma sono partiti con buoni propositi nei confronti di Maisano Però È una regola che difficilmente viene violata Questa del Quinto anno Insomma E si è confermata anche per loro Poi per quello che riguarda la scelta di Zearo Per il tipo di ambiente Si è deciso di puntare Sull'usato super sicuro Insomma Facciamo una piccola forzatura Lessicale Diciamo così E quindi Si è richiamato un personaggio Che gode di Grandissimo credito Insomma dalle parti della Carnia Ecco Tu me le tiri le domande Nicola L'avrebbero confermato Tu dicevi all'inizio stagione A questo punto è stato giusto confermarlo Perché se si parla di rapporti logori Se si parla di rapporti soprattutto lunghi E poi si genera un allenatore A tre giornate dalla fine Perché non si tratta di metà campionato Tre giornate dalla fine A questo punto la soluzione andava intrapresa prima? Ma se col seno di poi È chiaro che rispondiamo di sì Per forza Per forza di cose Però È difficile anche entrare in quelle dinamiche Perché c'è magari un mix di riconoscenza Uno gli viene il sospetto Che la cosa possa Possa Essere complicata Per la stagione a venire Però insomma Motivato Da quanto fatto fino a quel momento Dalla persona E non essendoci neanche oggettivamente Dei problemi credo Perché nel momento stesso In cui si vengono a creare Delle frizioni particolari Allora ti danno il là Per il cambio di guida tecnica Però Cambiare per noia Non ci credi mai Però a un certo punto Forse c'è di più Rispetto a quello che Che è il semplice Sentimento di logorio Così no E quindi Che sia memento Per Per altre situazioni Magari Per qualche dirigente Che nei prossimi anni Dice ma cosa facciamo Con quest'anno del mister Lo teniamo Lo cambiamo Allora Se possiamo dare un consiglio Per il bene di tutti Si cambi un po' di rinnovamento Così E si cambi subito E si cambi subito Si dia la possibilità A un allenatore Di prendere una squadra Di lavorarla Di forgiarla E di metterci la sua firma Anche perché in questo caso Nonostante la mancanza Di risultati Insomma E quindi Che legittimano la sostituzione È brutto Nei confronti di un mister Che ti ha Ti ha Ti ha fatto contento Per tanti anni Avere Non credo che a Tolmezzo Fossero contenti Per forza di cose Però anche Dal punto di vista umano Insomma È pesante Come atteggiamento Ecco noi abbiamo scritto Ritorno al futuro Perché Perché proprio Enzo Zearo Fu l'allenatore Che riportò 13 anni fa Il Tolmezzo In eccellenza Adesso Ha tre partite 100 Anzi scusate 270 minuti Per Tenerlo A questo punto Il Tolmezzo In eccellenza Si parte con Tolmezzo Forse la più facile Perché dopo ci sono San Luigi Tolmezzo E Tolmezzo Crass Insomma Bisogna lavorare Tanto sulla testa Forse solo Sulla testa Sì sì Per forza Ma torniamo Allo stesso discorso Di prima Dell'impegno Delle squadre Non dimenticandoci Che un po' I valori Vista anche La stanchezza Insomma Della stagione Possono venire Appiattiti Anche da quello Adesso Stiamo analizzando La situazione Del Tolmezzo Io ho fiducia Perché è una squadra Che comunque Ha qualche uomo goal Contrariamente Magari a qualche altra squadra Che può fare fatica A fine campionato Perché manca Manca la figura Del bomber E quindi in questo caso I rosso e i rosso-azzurri Possono essere un po' Più favoriti Rispetto ad altre formazioni Che battagliano Per la bagarre finale Insomma Ecco Chiudo Il primo blocco Chiaramente Non la trasmissione intera Con una domanda Risposta secca Sì no Zero può essere Una soluzione Di lungo periodo Oppure si traghetta Fino All'ultima giornata E poi Si progetta Vorrei risponderti Dino Poi temo di far Una brutta figura Ma lo vedo come Come un gesto Salvifico Cioè C'è bisogno E quindi mi rimetto In discussione Anche perché Un tipo di impegno Del genere Quando sei abituato Ad altre Dinamiche Altre inerzie È consistente Insomma perché Lo sappiamo benissimo Non è come allenare Con tutto il rispetto Una seconda Una prima A livello di testa Di tempo dedicato Alla cosa Settimanalmente Ce ne vuole parecchio Insomma perché fai Tre allenamenti Qualcuno fa anche Un richiamo il sabato La partita Alla fine È una vita Almeno quella Diciamo Extra familiare Extra lavorativa Forse Zero sarà Pure in pensione Adesso non lo so Però è dedicata Prettamente Prettamente al calcio Insomma quindi Se uno per Un po' di anni Non ha fatto questo tipo di vita Poi si disabitua E magari abituato Ad altre Dinamiche No Avremo ancora tanto da parlare Sempre con Nicola Angeli Rimanete lì Pubblicità Siamo di nuovo qui Voglio correre sull'erba Voglio sentirmi accarezzare Da un prato verde Società Affidati a The Green Carpet Specializzata in manutenzione Aree verdi E impiantistica sportiva Green Carpet Ti offre un pacchetto completo A prezzi concorrenziali Comprensivi di semina Sabbiatura Concimazione E rizzollatura Un campo da serie A È possibile anche Nei dilettanti Grazie a Green Carpet Che vanta lavori Al Friuli di Udine E a Rocco di Trieste Prendi cura del tuo campo Io ne ho bisogno Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato Con un servizio attento Ed di elevata qualità Accompagnato da un'offerta Di prodotti Ampia e completa Da Dodo Sport A Percoto Trovi l'abbigliamento Gli accessori E le scarpe Per ogni momento informale Della tua giornata Stile Praticità E gusto Sono le caratteristiche Delle collezioni Che proponiamo per uomo Donna e bambino E per gli sportivi Del calcio e calcetto Offriamo un assortimento Vasto e completo Di calzature E abbigliamento tecnico Fornendo un servizio Economico e puntuale Anche per le società sportive Dodo Sport Il negozio per gli sportivi E non solo Da Percoto Ristorante e pizzeria Il nuovo baffone A Basaldella All'uscita di Udine Sud Facile da raggiungere Impossibile da dimenticare Il nuovo baffone Vi colpirà con le sue specialità L'ampia scelta delle pizze Ogni vostro gusto E soddisfatto E poi Carne e pesce E per finire i dolci Anche lo staff di A Tutto Campo Ha scelto il nuovo baffone Se cerchi la buona cucina Hai solo una scelta Ristorante e pizzeria Al nuovo baffone A Basaldella Zanutta Fadalti Zanutta Fadalti 18 punti vendita La passione di una famiglia La professionalità Ed affidabilità Di un'azienda storica Il punto di riferimento Del territorio Per i professionisti Gli artigiani E i clienti privati Zanutta Fadalti Offre una vasta gamma Di servizi Nel settore dell'edilizia Della minuteria Dei trasporti E dell'immobiliare Per scoprire le nostre promozioni E prodotti innovativi Visita il sito www.zanutta.spa.it O vieni a trovarci Nei nostri 18 punti vendita Da Belluno a Trieste Passando per lo storico centro Di Muzzana del Turniano Sacile Pordenone E Udine Zanutta Fadalti È il tuo punto di riferimento Rieccoci Ben ritrovati Dopo la pubblicità Siamo di nuovo qui Con Nicola Angeli Ma vi lasciamo subito Per fargli vedere Una cosa bella però I 5 migliori gol Dell'ultima settimana E poi siamo di nuovo qui Siamo di nuovo qui Siamo di nuovo qui Abbiamo visto i 5 migliori gol Ce n'erano alcuni veramente carini Adesso andiamo a vederci Abbiamo parlato di grandi lotte Dopo ne discutiamo assieme Con Nicola Angeli ovviamente Sintesi Real Udinest Faulis Atto secondo Dopo la finale di Coppa Regione Vediamo come è andata Forza decisiva per il campionato Sintesi Sabato scorso il Real Udinest Ha alzato al cielo Il primo trofeo Della sua storia E l'ha fatto Proprio a discapito Del Faulis Che ospita stasera Ma oggi Tutto si azzera Tutto viene dimenticato Si riparte Parte il nostro cronometro Parte anche l'incontro Con il Real Udinest Che manovra subito La palla sulla destra Il Faulis Sietri che serve Marchetti Marchetti che si presenta Tutto solo Viene messo a terra Forse no L'intervento sulla palla Non protesta nemmeno L'ex giocatore del Reana Era una grande occasione Si era trovato A tu per tu Con il portiere Il numero 9 Marchetti Il numero 10 Bernardo Bernardo con la testa E c'è la rete Pinescarell Pinescarell Ha segnato Mi era parso Che non ci fosse stato Alcun tocco Che fosse entrata Direttamente La palla di Bernardo Invece c'è stato Il tocco di Pinescarell Si cerca di sfondare Molto a sinistra Questa volta Con Banello Banello che va al cross Sul secondo pallo La tocca solo Simoncello Poi arriva Bernardo Rete 2 a 0 Real Udinest 37esimo Questa volta Sì Bernardo L'inserimento di Paparcura Si chiude ancora Ma la palla rimane lì C'è il gran tiro E c'è ancora una deviazione Settimo Calcio d'angolo In favore del Fauglis Poi c'è forse un fallo I danni di Galati Ma lascia al vantaggio L'arbitro è Marchetti Marchetti che va a subire Un fallo Calcio di rigore Calcio di rigore Ha subito fallo Marchetti Da parte del Giocatore Piero Bernetis Che viene anche ammonito Si attende solo Il fischio di Giurgis Che arriva adesso Parte Marchetti Tiro Rete 2 a 1 Real Udinest 2 Fauglis 1 Intanto parte il calcio di punizione Ancora il Fauglis Prova Ietri Libera a sinistro Incredibile Grande risposta Si è svegliato il Fauglis Si è svegliato Ietri Ma è rimasto sveglio E come Tami Calakovic che evita L'intervento di un avversario Alla palla sul sinistro Prova di retura Tiro Rete Un gol straordinario Di Calakovic Trentesimo La pareggia Calakovic Che rete Rete straordinaria Di Calakovic Un sinistro Terrificante Si chiude qui A Udine In via Valente Tra Real Udinest E Fauglis 2 a 2 Il recupero Della 27esima giornata Calakovic Alla Seedorf In un Inter Juventus Di qualche anno fa Gran gol A parte gli scherzi Grandissimo gol Horst Categorino Come tipo di conclusione Eh si La messa La messa proprio lì Dove si annidano I nemici dell'igiene Dicevano altri Scherzi a parte Perché queste due Non scherzano per niente Più due Fauglis Con questa rimonta Rischia di essere decisiva Si per forza Anche perché E considerando il fatto Che come si dice Non è tutto Nelle mani del Fauglis Con quel tipo Di rosa Di potenzialità È difficile Che si facciano sfuggire Le ultime tre partite Di campionato Ragionando Su questo Su questo Girone Però quello che ho Sempre pensato io Anche quando per Diverso tempo È stato avanti Il Real Udinest Cioè la forza Delle due È talmente sproporzionata Rispetto a quella Delle Delle Competitor Che difficilmente Rispetto a quanto accade In altre situazioni Sai dove La seconda Che magari come in questo caso È stata Prima per tanto tempo Soffre ai playoff Quell'effetto D'illusione Che fa in modo Che non Non riesca a portarla fuori Ho sempre pensato Che adesso magari Faranno i debiti scongiuri Dalle parti di Via Valente Così come A Faulis Però Chi arriva secondo Con tutta probabilità Va su anche i playoff Perché sono Due Due formazioni Che Per potenzialità Sono Nettamente distanti Ma lo sanno Anche le altre squadre Le squadre Partecipanti Insomma Al giro NEC Della seconda categoria Che hanno fatto bene Insomma ci sono Belle realtà Ben organizzate Eccetera Però per Rosa Per potenzialità Queste due sono Davvero troppo forti Per tutte le altre Per quanto riguarda La regular season Questi due punti di vantaggio Conservati Proprio con Il gol Il golasso Che abbiamo appena visto Ecco rischiano Quelli di essere ormai Quasi finali Conservati anche in questo modo È difficile Perdere punti Con altre squadre Vista la manifesta Superiorità Perché nel momento stesso In cui vai sopra Due a zero Ti metti già Via Che sei Questo ti ha Ti ha imbrogliato Dal punto di vista mentale Pensi già di essere A più uno No E Da un momento all'altro Cioè da un momento all'altro Insomma nel corso della parete Poi gli altri arrivano al pareggio Con quel tipo di pareggio Capisci Eh sì Ti dà una mazzata morale in più Ti dà una mazzata pazzesca Perché un gol del genere Dici Allora Si vede che non Che non dobbiamo portarla fuori Insomma E quindi Impegno per Per il mister Baulini Insomma in questo senso Per Per riuscire a A gestire bene la cosa Allora Cogliamo il tuo assist E vediamoci subito Le interviste Allora Interviste di Rearudinest Faulis E poi di nuovo qua Rino Busato Il punto può andare bene? Sì Penso di sì Insomma Penso che non abbiamo rubato niente Forse se c'era una squadra Che doveva vincere stasera Eravamo noi Per quello che abbiamo creato Per come abbiamo giocato E per le occasioni da gol Loro Sono stati bravi In due errori nostri E hanno fatto Due tiri e due gol Mi sembra Adesso magari dopo Rivedendo la partita Magari Sarò più Più preciso Però penso che Insomma la partita Sia quella Non abbiamo rubato niente Ecco presidente Adesso tre partite Ovviamente voi siete obbligati A fare nove punti Il destino forse È nelle mani del Faulis Però a questo punto Ma il destino È nelle mani del Faulis Noi siamo partiti Con quella che vogliamo Andare in prima categoria Se vinciamo il campionato Siamo felicissimi di vincerlo Se andiamo su Tramite i playoff Va bene lo stesso L'importante è per noi Andare in prima categoria Dove vuole arrivare Il suo Faulis? Ma noi L'obiettivo Che c'eravamo fra fissi Due anni fa Quando è nata la società Era di arrivare in prima categoria E di fermarsi in prima categoria Perché le strutture Nostre Nel nostro piccolo paese Non ci permetteranno Di andare in eccellenza Anche se magari L'obiettivo È di salire in prima O in promozione Ma non di più Alessandro Ietri Uno dei giocatori più rappresentativi Del Faulis Nonché capo canoniere Sono da fare nove punti Per salire adesso? Io penso proprio di sì Perché se sbagli Contro Contro le altre tre squadre Che dobbiamo affrontare Io penso che Il Real non molla niente Per cui devi vincere le tutte e tre Dei vincere le tutte e tre Diceva Ietri Faulis Rivolto Beardy Real Udinest To be continued Ma probabilmente To be continued In prima categoria Per tutte e due Dicevamo Lo confermiamo dai Sì sì Penso proprio di sì Cioè Se una delle due In questo caso Quella più accreditata Il Real Udinest Non andasse Non fosse promossa Ai playoff Sarebbe la sorpresa Forse questo Ti può condizionare Che sei costretto Ad essere promosso In prima categoria Però Ricordiamoci sempre Che Forse dopo questo recupero Gli è superiore Cioè Messo meglio il Tor Viscosa Però Fino a poco Poche Alla scorsa giornata Era la difesa meno battuta Di tutto Di tutto il girone Di tutti I campionati dilettanti Quindi sai In una situazione del genere Non prendere gol Partendo dal presupposto Che sei comunque Quello meglio classificato Ti agevola parecchio Poi sai Hanno preso Mi sembra Undici gol In campionato Con questi due di sera Sì Vorrà dire qualcosa Non è che sono la miglior difesa Con venticinque gol presi Non dici sono pochini No Assolutamente Sono pochini Avevamo sentito però Il presidente del Faulis Dire Noi ci accontentiamo Della prima categoria Le strutture Eccetera eccetera Il Real Udinest Si accontenta invece Della prima categoria Facciamo un salto Forse troppo grande Però Fatta calcio Ma sai Se dovessimo ragionare Sulle strutture Varrebbe questo discorso Anche per il Per il Real Udinest Nel senso che No Non c'è la tribuna In via Valente Insomma Per altri versi Sono molto ben organizzati Hanno forse il chiosco Più competitivo della città Visto che qua Si parla Si parla spesso Di questo aspetto Anche Però non possiamo invadere Campi Campi che non ci spettano Sì è vero Sono quelli di Magrini Ci vorrebbero due minuti di Magrini Per dirci effettivamente Se è così Se ha visitato il chiosco Però Il presidente Barei è ambizioso Come Budai Insomma che adesso cercava Di gettare un po' di Un po' di acqua sul fuoco E non di benzina Però Barei è Ambizioso E quindi non mi meraviglierei Se nel caso arrivassero in prima categoria Poi allestisse Una formazione Per arrivare a qualcosa di più Anche perché di giocatori Già adesso in rosa Che hanno fatto bene In quel tipo di palcoscenico Ci sono Come Non so mi viene in mente Beh a parte Tami Che insomma è Diciamo Esperto Diciamo così Però è uno che ha un background Di Di categoria Non indifferente Però Ce n'è uno per reparto Alla fine Alla fine dei conti Anche De Nicolo In difesa Insomma ha giocato A Pertegada Ha giocato Nelle giovanili della Triestina Insomma è gente Che sa il fatto suo Ma si vede anche Sui risultati Quei risultati del campionato Insomma che Che sanno Che sanno il fatto loro Pines Carel Questa è inizia La stagione a Corno Ha anche fatto un paio di gol E poi è sceso in seconda Insomma non credo che voglia Essendo così giovane Giocare in seconda Tutta la vita Ma forse nemmeno in prima E soprattutto Se uno scende Dall'eccellenza E va in seconda Va in una seconda Che ha un progetto Di diventare prima Di diventare qualcos'altro Sì sì Per forza Per forza Insomma Mi sembra sia palese E noi abbiamo visto Questa lotta Per il campionato In seconda Girone C Parlavamo della lotta In eccellenza Prendiamo anche questo treno Andiamo a vedere Allora i nostri appuntamenti Le partite che potrete vedere Già domenica sera A tutto campo Con Massimo Radina 19.30 Anche su Free Canale 17 Belluno Pordenone L'anticipo L'anticipo Si giocherà di sabato E qui si decide Sì il campionato Si gioca anche Este Marano Noi ci vedremo Belluno Pordenone E poi Unione Triestina Vittorio Veneto Altre immagini Sempre nostre Poi San Luigi Crass Qui siamo di nuovo In eccellenza Camino Torre Promozione Girone A E poi Vesna Juventina Tutto solamente Da noi Abbiamo detto Occhio capolista Vi controlliamo Queste sono praticamente Tutte capolista Tranne la Triestina La Triestina Che sta affrontando Un momento difficile Ne parleremo Anche di quello Grazie Nicola Angeli Per essere stato con noi Grazie a te Buonasera a tutti Alla prossima A tutto campo Il meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti